Se fossi un dirigente, se fossi al potere, oddio, la domanda forse potrebbe essere più semplice. Io mi limito a raccontare la vita come posso. So che oggi sono qua e lo faccio per loro, comprendo benissimo le motivazioni che spingono queste persone a stare sotto al palco. Come ho cantato questa sera, che siate duri per vivere. E' importante resistere e credere in queste motivazioni qui perché prima o poi le cose cambieranno. E anche quando lo Stato fingerà di essere sordo, voi cantate la vostra canzone più forte, il vostro cavallo di battaglia che arriverà alle orecchie giuste e riusciremo a cambiare insieme. L'emozione è fortissima ma perché è inevitabile, l'energia che sprigiona questo pubblico è gigante, immensa. E quindi quando sali sul palco io la prima cosa che sono riuscita a dire è stata taranto per un minuto. E poi chiaramente la musica ha fatto il suo compito, è lanciare un messaggio. Io mi limito a raccontare storie di vita, spesso di coraggio, altre volte d'amore. E nulla di trascendentale, semplicemente vita. Nel mio piccolo sono riuscita a lanciare un po' di coraggio. Spero che questo messaggio sia stato accolto. Spero che questo messaggio sia stato accolto.